Erba e degrado inghiottano di nuovo le madonne bianche. La polisportiva, sgomberata dalla polizia municipale nel gennaio scorso, è tornata ad essere terra di nessuno, dopo che circa un anno fa i ragazzi di Torpedo erano entrati nel parco di Sant'Alessio, riqualificandolo, ripulendolo dalle erbacce e dando vita a iniziative. Ora tutto è abbandonato e probabilmente resterà così per tutta l'estate. Alla fine anche il bando per l'affidamento voluto dall'amministrazione Tambellini si è rivelato un flop, al pari di quello indetto dalla precedente amministrazione Favilla. I due soggetti che avevano presentato le manifestazioni di interesse, tra cui c'è la Lucchese, non ne hanno fatto di nulla e non hanno presentato progetti entro il termine fissato alla fine di maggio, risultato ancora mesi di degrado in vista. L'amministrazione comunale sembra adesso convinta ad abbandonare l'idea di un nuovo bando. Le madonne bianche saranno probabilmente inserite tra le strutture sportive da affidare alle società attraverso il regolamento degli impianti che dovrebbe approdare la prossima settimana all'esame della giunta Tambellini. Ma ci sarà ancora da attendere per vedere il parco definitivamente riqualificato.